E magari potremmo anche lavorare insieme, pensa. Come? E beh, io ti porto dei miei assistiti. E ma... ti stai grattando? Come mi sta? Tornate immediatamente ai vostri posti. Oh! Allora, chi comanda qui? Vediamo un po' chi comanda qui. Bene? Così va bene. Scusate, siete completamente pazze. Ma cos'è questa storia di mangiare con le mani, eh? Vi siete dimenticati come si usano le posate? Ragazze, per favore, il caffè non portatemelo, eh? Grazie. 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 Grazie.